Il meteo vi è offerto da Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it Dopo la sforiata artica che ieri ha provocato bufere di neve sui monti e fatto crorare le colonine di mercurio sino a 10 gradi sotto zero su Botte Donato oggi la Calabria si trova sul bordo orientale di un robusto anticiclone che presenta i suoi massimi sulla Gran Bretagna. Tale posizione favorirà un tempo discreto sebbene non esente da piccoli disturbi e temperature che si rialzeranno ma solo quel tanto che basta per stabilizzarsi intorno alle medie del periodo. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Giovedì cieli sereni quasi ovunque. Nubi sparse sui litorali tirrenici soprattutto Vibonese e Regino dove potrebbe verificarsi qualche debole piovigine temperature in rialzo rientranti nelle medie del periodo. Verdi nubi sparse sui versanti tirrenici con possibilità di brevi e poco significative piovigini sparse sull'Ametino, Vibonese e Regino altrove sereno o poco nuoloso. Temperature in ulteriore lieve rialzo ovunque soprattutto le massime sul crotonese. Adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Giovedì dal pomeriggio il martirreno tenderà a divenire molto mosso quasi ovunque. Lo Ionio sarà mosso tranne i bacini crotonesi che per gran parte della giornata saranno molto mossi. I venti ispireranno ovunque da nord-ovest generalmente moderati. Venerdì mari ovunque mossi tranne lo Ionio crotonese che sarà poco mosso. Venti dei quadranti nord-occidentale generalmente moderati a tratti forti solo sul golfo di Squillace. Sul crotonese sotto costo venti deboli di direzione variabile. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al nostro sito www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria su cui vi invito ad apporre il vostro vi piace. Per la puntata di oggi è tutto grazie e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie! Sì, bene. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti.